Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Episodio 5 della nostra scalata verso la finale di Euro 2020 su PES 2021. L'incontro al quarto di finale è Spagna e Italia, quindi è una partita inizia ad essere molto 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 tosta. Andiamo avanti con scelta delle informazioni, penso che non ci sia niente da aggiungere perché con lo schema di gioco rimangono sempre gli stessi, un 4-3-3, Chiesa Zanino davanti con la nostra punta immobile. Dunque con la scelta della divisa io direi che forse è meglio per loro scegliere questa così almeno non mi confondo. Giocare San Pietroburgo? Cioè sto giocando solo in quegli stadi, va bene, ce lo facciamo andare bene e andiamo! Ok sembra vederli carichi, vedo già carichi. Dai ci prendiamo il nostro inno, la parte finale dell'inno sai? Sta fantasia con quella specie di fiora lì come trama, dai che faccio molto impazzire però. Finché teniamo la Puma come sponsor tecnico. Ok con gli spagnoli sì è vero, il game pressing può servire però diciamo che me lo tengo per più avanti. Bello. Ok. Vede Chiesa movimento libero di Ciro! Ciro tira cazzo! E poi in tre, in tre... Molto spesso? Devo dire. Anche i giocatori più spessi, cazzo che... Come si muove morata? Bravo! Eh sì! Dai minchia con la palla che rimane lì! Dai ma cazzo! Ma... Inche che due coglioni sta fisica di merda! La palla rimane lì, i difensori fermi! Guarda, nessuno che va a prendere la palla! Ok, subito se arriviamo a Chiesa! Ci giriamo! Inchia Ciro! Porca puttana! Sempre fuori posizione! Bene! Bello! Forza Ciro! Cazzo! Fallo qua, niente! Che cazzo! Che culo però, minchia! Ramos ha sparato a cazzo là davanti e riuscito a trovare il suo uomo! Non ci credo! Eh che palle! Minchia! No! L'aveva parata! Non ci credo! Non ci credo! Dai Ciro! Ma perché non è andato? Non è possibile! Vuoi vedere quanti tiri ha fatto? Come zero tiri! Vabbè, mancanza iniziative! Ancora che si gira dal lato sbagliato! Bello, 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 bello! Se la sposta! Ciro! Ciro! Quasi di Ciro! Dai cazzo! Dai cazzo! Dai cazzo! Forza, forza! Forza Ciro! Dov'è! No, Barelli, intercetta! Sove subito immobile! Prova da città! Tiro, scartare a egea! E la piazza! E la piazza! 2,1! 65 esimo! Dai raga! Forza, forza, forza! Sì ok Ok No ho sbagliato Cazzo porco non ho visto che c'era Mamma mia mamma mia Così Attenzione Vai Ciro Vai Ciro Figlio di puttana Figlio di puttana Si ha sposto Porucci 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 La pareggia All'ottantattesimo La pareggia Sì Sì Con l'uomo in più là davanti Siamo ancora lì Siamo ancora lì Giacali giuri Immobile Bonucci Libero Sul primo palo Cazzo Cazzo fa immobile Porca puttana Gole assist Minchia lì erano da soli Dai Dai porca Eva Vabbè dai L'abbiamo ripresa L'abbiamo ripresa Florenzi La Spagna La Spagna Ho schiacciato Ho schiacciato il tasto del passaggio Avevo fatto la finta di tiro Meno male che era lì sulla porta Cari giuri Verratti Ma dai ma che tiro di merda Verratti Ma che cazzo Arbitro E sta vacca Di Rodrigo Guarda che fallaccio brutto Mado Ok Così Fraseggio Per Ciro Bravo Spinazzola Guarda Spinazzola Bello Attenzione Caligiuri La piazza Caligiuri la piazza Caligiuri la piazza No Ma dai ma quelle Calce di punizione Minchia Ma dai Attenzione Donnarumma Donnarumma Nella traiettoria Ma che cazzo fa Dai ma perché Che io l'ho regalata lì Sì 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 Verratti L'aveva presa Passiamo al turno Sì 3-2 Ribaltone ragazzi Sulla Spagna Incredibile Sì un po' meno passaggi Però possesso palla Più in noi Più in meno Sì un tiro in meno Nel complesso Però dai Oh Che sudata ragazzi Molto bene Allora siamo contro La Scozia Quindi ragazzi Siamo passati in semifinale Molto bene ragazzi L'episodio 5 Finisce qua Grazie per essere stati qua con me Scrivete Se vi piaciuto questo video Scrivete tutto Quello che volete Nei commenti qua sotto Vi lascio sempre il link In descrizione Del mio canale Telegram Del mio canale Instagram Del mio canale Twitch Dove servirò ogni giorno Io vi do appuntamento Al prossimo episodio In semifinale Contro la Scozia E da me è tutto Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi